Non esce, vuole pulizia un po' di novanti. Ma sai perché? Perché se quel deficiente non fischia subito. Che è fiore, dici? Sì, hai... Sticchia che... Stai messo in campo, altre scelte e le nuove neanche. Sì, però... Il genito che ha ancora preso... Ecco. Fa gol su punizione testa Tiberia. Fa gol su testa Tiberia adesso. 10 minuti di recupero! Vabbè, la punizione di prima, un minuto e 43 secondi. Questa qua sono già un minuto e 25. Abbiamo... No! No! Ero! Ero! Troios! Go! hy